ok mannaggia cristian mi dico ma porca puttana ma perchè perchè succedono queste cose questo mondiale era scritto che doveva arrivare a valencia per quanto è bello perchè rovinarlo in questo modo perchè perchè basta basta non devo più urlare se no mi cacciano di casa perchè si sente lo stesso anche se sono in macchina mi fa male la gola non voglio dire nulla sull'incidente perchè allora i teleconisti dell'RSI hanno detto che non sanno di chi è la colpa voglio sentire meta perchè più esperto scusate delle cronisti dell'RSI io personalmente che non lo so non lo so di che è la colpa Alex Marquez diciamo Alex Marquez non so dove poteva altro poteva andare l'unica cosa che poteva fare è frenare di più di come stava facendo perchè se cambiava tradittoria forse era anche peggio ragazzi però sono opinioni mie e magari sono sbagliate perchè io non mi fido mi fido più di Guido Meda che parla di questo incidente che di me punto ho deciso questa cosa e se vogliamo dare la colpa a Bagna è l'unica l'unica possibile ragazzi che ha stretto troppo io spero che non sia colpa tua io lo spero ma no no sono incazzato lo stesso sono incazzato lo stesso perchè anche se anche se anche se perca puttana mi vengono le parole la colpa è di uno o di altro oh vaffanculo avete comunque fatto incazzare ah 23 punti 23 punti adesso il distacco mi ha persi 14 non sono pochi per un mondiale che come ha dimostrato questo mondiale ogni punto conta non so se cade il telefono però non va bene basta no non voglio più parlare di questa cosa andiamo alla gara se era da tanto tempo però che non commontavo una gara senza peggio vabbè Marquez e Martino è lo stesso discorso di ieri c'è Martino si accontente adesso ancora di più si accontenta perchè cioè che cosa può volere più di così Martino Marquez vabbè lascio stare Marquez poi quei due bastardi che si sono piati senza quei due che è arrivato terzo Pedro vaffanculo il fantapolo GP mi se l'ho messo terzo no forse no vaffanculo bravo Pedro Binder quarto bravissimo e poi che cazzo il resto tutti educati a parte quei due deficienti di merda diciamo si esatto che sono arrivati svariati Benzecchi Gian Antonio Morbidelli e Bastianini questi questi quattro evidentemente di più non potevano fare comunque le Ducati sono fortissime solo a costa Binder almeno questo weekend l'hanno potuti mettere un po' in difficoltà per il resto tutto normale eccetto che le Aprilia oh vabbè le Aprilia tre cazzo povero ma l'Aprilia ufficiale raga ma che cazzo è successo cioè alla Ace ho capito ha rimontato ma cioè si è messo davanti in onda mi sembra cioè poca roba ne aspettavo molto di più dalle Ace Maverick penso che abbia avuto un problema perché è rimasto diciannovesimo per tutta la gara finché non si è ritirato non so che cazzo gli sta succedendo pure a Maverick vabbè diciamo Dionde e Yamaha avranno preso in totale tre punti che è arrivato Rinza mi sembra quindicesimo o Augusto Ferrage che cazzo ce ne frega lo stesso Quartararo mi spiace è cavuto figlio mio però te ne devi andare a quella cazzo di moto vaffanculo basta cioè basta Miller fatto schifo ormai tutte le Ducati lo passano tutte le Ducati l'hanno passato quindi fai spazio a Pedro fate spazio a Pedro KTM chiaro? ah fa spazio a Pedro ah perché ho detto a due tre volte Ducati ufficiale Cresini VR46 Bravac le Aprilia l'ho dette le KTM pure e le Onde ma si ho detto tutto ragazzi basta testa alla prossima e mo vediamo la classifica ma guarda se se qualche Aprilia o Ducati sta superata mi incazzo ancora di più da tipo una Yamaha o no non è possibile o da una KTM chiaro? no però non penso no però non penso che che Grazie.